E benvenuti in questo nuovo video, io sono Matt, oggi andiamo a vedere una ricompensa completamente gratuita che ci può dare dal gioco, poi vi spiego come riscattare. Allora, iniziamo subito, la ricompensa è uno spray, eccolo qui, Erede del Miniero Croft, è un spray della serie leggende dei videogiochi e potete riscattarla andando, adesso vi lascio il link in descrizione del sito, dovete andare su riscattare ricompensa e mettere il codice che vi do in descrizione, collegare il vostro account, riscattare il codice ed ecco fatto, è una cosa molto semplice, se l'avete fatto anche con altre ricompense sapete già come si fa, se no dovete fare questo, dovete accedere al vostro account dal sito di Epic Games dove vi metterò il link e dovete mettere il codice nella descrizione del video. Niente ragazzi, qui entrerò pure il mio amico, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, condividete con tutti i nostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto con la campanella e le notifiche, e noi ci vediamo a un prossimo video, più davanti è tutto, bella!